Monteroni, ancora sangue sulle strade del Salento. Questa mattina un centauro 39enne residente a Lecce ha perso le vita dopo un terribile impatto con un tir, a Monteroni di Lecce, sulla via per Copertino. Era alla guida della sua moto, una FZX, quando per ragioni da chiarire è rimasto schiacciato dal rimorchio dell'auto articolato e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri del radiomobile di Lecce, ai quali è affidato il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Monteroni, ancora sangue sulle strade del Salento. Questa mattina un centauro 39enne residente a Lecce ha perso le vita dopo un terribile impatto con un tir, a Monteroni di Lecce, sulla via per Copertino. Era alla guida della sua moto, una FZX, quando per ragioni da chiarire è rimasto schiacciato dal rimorchio dell'auto articolato e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri del radiomobile di Lecce. Grazie. 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 Grazie.